Non è mai partito l'atto firmato il 22 aprile 2014 dall'allora premier Matteo Renzi sulla desecretazione dei documenti relativi a una lunga serie di terribili eventi da Piazza Fontana al Rapido 904 e al Casomoro. A denunciarlo durante una conferenza alla Camera dei Deputati, le associazioni dei familiari delle vittime di stragi e la rete degli archivi per non dimenticare. Insieme hanno presentato un documento con dieci proposte indirizzate al prossimo governo per rendere realmente efficace l'attuazione della direttiva. Le associazioni vogliono collaborare e riconoscono di aver avuto un buon dialogo con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, De Vincenti, ma non basta, come dichiarano ai microfoni di Lumsanews Paolo Bolognesi, deputato PD, e Larea Moroni, direttrice dell'archivio Flamini. La direttiva può funzionare solo se c'è la volontà politica di fare chiarezza su queste cose. Queste sono cose che ancora oggi ci sono parti dello Stato che non vogliono assolutamente far andare avanti la verità. Se è vero che tanti sono stati documenti versati, vero è che tantissimi sono i buchi e quindi il senso è consegnare anche al governo che verrà dopo una responsabilità che deve prendersi. Tra le richieste presentate alla nuova legislazione che si sedierà dopo le elezioni del 4 marzo, delegare referenti nei ministeri, aprire gli archivi periferici, versare anche i documenti di Camera e Senato sulle strutture segrete e diversive di loro competenza.